2 novembre il PAC, il comitato nato da fruitori di questo meraviglioso, di quello che dovrà essere un meraviglioso parco, ha portato avanti una sua iniziativa, la pulizia di questo angolo di parco. Il parco è nel degrado più assoluto, deiezioni canine da tutte le parti, ma si sforzano anche a ritirarle, a prendere, le mettono nei secchioni che puntualmente non vengono puliti, anzi mi dicono che l'ultima pulizia avvenuta dei secchioni è il 14 settembre, del resto questi sacchi di immondizia che abbiamo preso oggi sono eloquenti. Per cui cosa dire? Panetta stai sereno, nel senso che noi non sappiamo ad oggi di chi è la competenza, a chi spetta, voglio dire la pulizia, oltre che il taglio dell'erba che non siamo riusciti mai a capire niente, quanti, come, perché, se fanno durante l'anno, quanto costano, perché tutto è nebuloso, non sappiamo nulla, noi chiediamo trasparenza e legalità, nel senso che vogliamo sapere quando vengono effettuate le pulizie, quando viene effettuato il taglio dell'erba e la manutenzione e soprattutto quanto costa, perché no? È un cavallo di battaglia, la voglio dire, la giunta pentastrellata di Roma e del municidio, perciò, perché, non dovremmo saperlo, serve comunque un contenitore per le deiezioni canine, questo parco è frequentato da decine e decine di cittadini possessori di animali, che la raccolgono e poi puntualmente ovviamente la buttano in questi secchi che oggi abbiamo pulito, ma se nessuno la pulisce mai è chiaro che dopo mosche, animali, insetti, topi, chi più ha più ne metta, non ci facciamo mancare niente, comunque, noi come Senso Civico 2.0 siamo presenti come sempre, il PAC è presente, stiamo aspettando la nostra referente, chiaramente mi suggeriscono dalla regia, Roberta, e tra non molto sarà qua e continueremo a fare qualche altra cosa, c'è un altro secchione da pulire, mancano i sacchi e il sacco non si regge perché manca l'elastico, capito Panetta, almeno questo, io non lo so a chi spetta, a lei, a lama, non dico a Gesù perché a questi tempi non è il caso neanche da nominarlo con quello che sta succedendo nella nostra nazione. Qui parco di Centocelle, 2 novembre, per oggi ci siamo quasi.